La maglia della fondazione per ribadire l'importanza dell'iniziativa che mira ad indagare le società sportive ad una maggiore tutela e salvaguardia della salute dei propri atleti. Grazie al protocollo d'intesa siglato con la fondazione Fioravante Polito, domenica scorsa la Gelbison e la Cavese sono scese in campo con la maglia della fondazione per ribadire insieme al presidente Davide Polito l'importanza dell'iniziativa che mira ad impegnare le società sportive ad una maggiore tutela e salvaguardia della salute dei propri atleti. Il passaporto ematico prevede 16 esami attraverso i quali si può avere un quadro preciso della situazione clinica di ogni atleta. La Gelbison con il presidente Maurizio Puglisi è tra i sostenitori del passaporto ematico e delle attività della fondazione Polito. Grazie a tutti.